e siamo giunti al clou di questo tardo pomeriggio riservato a cavalli di quattro anni sul miglio Ursercaf, Uccio d'Alvia, Urceus Unitalia, Unetual Gare, Ulteriorville Uragano Star, corsa molto aperta atteso il rientro del quasi classico Unitalia, rinuncia a Uragano Star, gli altri bene a rete, va via la macchina in velocità. Si lotta per il comando con Unitalia che impegna Urceus per il comando, sta passando Unitalia e all'attacco della piegata l'allievo di Minucci, il leader, si completa il lancio in tredici e quattro e così a metà della piegata guida liberamente il Conway Hall con Minucci in salchi. In terza posizione si è sistemato Uccio d'Alvia, quattrocento in ventotto e nove e una volta al comando ora può leggermente graduare risale Ulteriorville pedinato da Uragano Star. Galoppa Uragano Star, cavalli dopo 600 in 44 e mezzo da 1 a 14 e mezzo si viaggia e prende la via del largo anche un Etualgar nella scia di Ulteriorville al comando 1 Italia. Mezzo miglio gettonato in un minuto e qualche spicciolo. E' riuscito a graduare Minucci con il suo Conway Hall e conduce liberamente con una di margine su Urceus. Allunga e si distende un'Italia, completa il chilometro in 14 e 6, 14 e 4 di frazione. 500 alla meta, ora i cavalli affrontano la curva finale, allargo generosamente sempre Ulteriorville, 14 di fronte, 1, 28 e 6, 3 quarti di miglio, con Unitalia al comando, sposta anche un Etualgar, retta d'arrivo con Unitalia, con buon margine leader, allunga Unitalia, se ne va Unitalia, rientro col botto, con la nuova versione di Improda, alla grande Unetualgar che prende un'ottima seconda moneta. Torna al successo, il quasi classico Unitalia, per la gioia dell'onorevole Galoppo Ulteriorville, 1, 57 e mezzo, 1, 13 e 4, signori, i numeri di questo rientro col botto del classico Unitalia, il Conway Hall di casa Giovane Italia, con il nuovo training e bisogna fargli i complimenti di Antoni Improda. In Salchi, sempre essenziale, fondamentale, Jean Paul Minucci, che pennella al comando con un rientro da Circoletto Arcobaleno. Linea